Ben ritrovati amici telespettatori, quella giocata lunedì sera dalla Nazionale di Calcio italiana, non è stata una partita convenzionale, una partita ordinaria, una partita potremmo dire come le altre o comunque con una capacità di attenzione mediatica uguale a quella delle partite immediatamente precedenti. È stata una partita particolare e ce ne siamo resi conto il giorno dopo, la mattina dopo, quando abbiamo sfogliato i quotidiani, le prime pagine dei quotidiani. Cominciamo con Tutto Sport, vedremo come i quotidiani sportivi in particolare esaltano la nostra Nazionale. Tutto Sport infatti titola, ed è il titolo più evidente della pagina, Bella Italia, National League 4 a 1 a Israele, famiglia Maldini, che storia! E poi nel sommario rigore di Retegui, poi Capitani Lorenzo, Doppietta e Frattesi, sempre primi davanti alla Francia, manca un punto per essere ai quarti e testa di serie alle qualificazioni mondiali. Poi c'è un riferimento anche a Udine blindata ma in festa, che caratterizza anche l'altro aspetto della partita e poi la sottolineatura richiamata anche nell'occhiello, debutto di Daniel, figlio di Paolo e nipote di Cesare. È la famiglia Maldini che è giunta alla terza generazione di calciatori che si sono, potremmo dire, passati di padre in figlio e adesso anche di padre in figlio e in nipote, una maglia nella Nazionale. Titolo esaltante anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Bravi, bravi, addirittura un bravi raddoppiato. Nation, gli azzurri battono 4 a 1 Israele, sono i primi con 10 punti, primi del girone. E poi sotto leggiamo, anche qui al titolo principale della prima pagina, una fotonotizia. L'Italia si diverte, doppio di Lorenzo, Frattesi bomber. E poi anche qui troviamo nel sommario, brilla il capitano del Napoli, ottavo gol in nazionale per Davide, segna anche Retegui, Maldini storico, debutta dopo il padre e il nonno. Spalletti ha commentato alla fine della partita, noi siamo una squadra. Un po' più equilibrato è invece quello che ritroviamo sulla prima pagina, sempre di martedì scorso, della Gazzetta dello Sport, il quotidiano rosa. Niente esaltazioni, ma un titolo che potremmo dire è accattivante e per certi versi intrigante. Italia è qui la testa, proprio per indicare che l'Italia è al comando, è testa di serie e potrebbe confermarsi testa di serie del girone. National in gol Retegui, Frattesi e Di Lorenzo. Di Lorenzo ha realizzato due reti. E poi anche qui nel sommario, batte Israele 4 a 1 e resta al comando. Basta un punto per essere testa di serie. Quindi siamo vicinissimi a questo obiettivo di diventare testa di serie. Di qui il titolo, l'Italia è qui la testa. nel sorteggio per il mondiale. Quindi testa di serie per il sorteggio per il mondiale. E poi c'è questa fotografia in basso rispetto a quanto abbiamo letto, in cui c'è Daniel che è la riscoperta della famiglia Maldini, la terza generazione della famiglia Maldini e la scritta, la didascalia, dopo nonna Cesare e papà Paolo. Anche Daniel si veste d'azzurro. Continua la saga dei Maldini. Questo dunque è quello che abbiamo trovato sulle prime pagine dei quotidiani sportivi. ma i quotidiani, diciamo, generalisti. Come hanno accolto il risultato dell'Italia? Come hanno accolto questa partita? Finita bene, benissimo per l'Italia, che ha giocato bene, ha fatto vedere finalmente un bel gioco, che si prospetta come candidata a diventare testa di serie nel Girone, ma che comunque ha giocato con una squadra che in questo momento rappresenta uno Stato che dal punto di vista della geopolitica ha gli occhi addosso, occhi abbastanza critici da parte di tutto il mondo. Vediamo come il Corriere della Sera, titola in taglio alto. L'Italia batte Israele 4 a 1, azzurri al comando, National League. Soltanto un richiamo in prima pagina, una fotografia molto piccola. Non si sbilancia il Corriere della Sera più di tanto nel dare, diciamo, informazioni in prima pagina. Non c'è la grande esaltazione che abbiamo trovato nei quotidiani sportivi per la bella prova dell'Italia. Non c'è in prima pagina qualche nota critica sul tipo di partita, sull'avversario con cui l'Italia ha giocato. Un avversario che ha reso necessario dare allo stadio di Udine delle misure di emergenza, delle misure di controllo particolari maggiori rispetto a quelle ordinarie. Così, diciamo, il quotidiano Il Giornale ci descrive quello che è accaduto lunedì sera a Udine con il titolo che di fatto è il titolo di apertura di martedì. Leggiamolo insieme, cecchini sui tetti e odio in piazza per Italia-Israele. A Udine finisce 4 a 1. E leggiamo soltanto l'incipit dell'articolo che continua ovviamente nelle pagine interne. Una partita particolare, blindata, al di là dei confini del calcio. Sul campo di gioco Italia e Israele cercano la normalità. Anche qui c'è una sorta di accenno in punta di piedi, anche perché tocchiamo dei tasti molto delicati di una situazione internazionale. Quindi questa partita di fatto rappresenta quasi una voglia di normalità, una voglia di pace. Anche se qualcuno ha contestato il fatto che l'Italia abbia giocato con la squadra di Israele che appunto in questo momento è sotto osservazione per degli attacchi che hanno colpito persino dei caschi blu. Non a caso per esempio alcuni quotidiani, come il Fatto Quotidiano, non dedica nessun titolo martedì mattina in prima pagina alla partita, né al risultato ottenuto dalla nostra compagine, né tantomeno al clima surriscaldato e di grande tensione, blindato, in cui questa partita si è giocata, né all'opportunità o meno da parte dell'Italia di giocare questa partita. Il Quotidiano Avvenire per esempio non dà nessuna notizia in prima pagina ma a differenza del Fatto Quotidiano in taglio basso si occupa di un argomento di sport ma di tennis e scrive Sinner d'Arabia per vincere da numero uno il torneo dei paperoni. Quindi Avvenire parla di sport martedì mattina ma non parla assolutamente né della prestazione della nazionale di calcio né della situazione nella quale questa partita si è giocata. Possiamo dire che ci sono state addirittura delle prese di distanza, dei consigli che sono stati dati prima che questa partita ci fosse, oppure delle critiche che sono scattate dopo che l'Italia ha giocato questa partita. Per esempio la DN Kronos ha sottolineato una presa di posizione di Roger Walters che ha attaccato la nazionale italiana di calcio per aver giocato contro Israele nel match della National League di lunedì sera. L'ex bassista e voce dei Pink Floyd ha acceso la polemica con un video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui non usa mezzi termini, vergogna, vergogna Italia. Qui c'è una presa di posizione molto netta e molto definita e che lascia capire ancora in quale clima si è giocata la partita. E poi ci sono anche invece degli aspetti per quanto riguarda la prestazione della nazionale italiana. Abbiamo letto come i quotidiani sportivi abbiano utilizzato dei titoli estremamente favorevoli all'Italia ma se noi andiamo ad analizzare le pagelle, per esempio quella data da Sky Sport, troviamo che soltanto due dei giocatori in campo raggiungono il voto di 7,5 che è il voto più alto dato dalla redazione sportiva di Sky Sport. Uno per Di Marco, voto 7,5 e poi troviamo la motivazione, stavolta se la gioca con Rete Guy ma è il migliore, magari a pari merito. Ogni pallone che capiti sul suo piede nei pressi dell'area di rigore avversaria diventa un cioccolatino da scartare e divorare. Solo lo scarso appetito degli attaccanti serviti tiene in bilico la partita, poi ci pensa Frattesi ad onorare l'assist. Stesso voto, 7,5 per Rete Guy che viene motivato in questo modo. La cattiveria è la solita, la precisione rigore a parte è un po' meno, infatti non segna davanti alla porta dopo aver dettato e ricevuto il passaggio e non lo fa nemmeno sul perfetto cross rasoterra di Di Marco però è il riferimento di ogni azione azzurra. Viene incontro, difende palla, chiude triangoli, salta di testa, accetta lo scontro fisico, tira appena può. E' il numero 9 per definizione, ovviamente il numero 9 riferito alla maglia e al ruolo giocato in campo. E poi c'è un voto per Spalletti che è appena al di sotto del massimo voto dato ai due calciatori di cui abbiamo appena letto le pagelle. Il voto per Spalletti è 7, sempre di Sky Sport. Decide di cambiare pochissimo, di dare minuti alla nascente Italia titolare e uno dei rimpiazzati ricci viene richiamato in campo dopo 45 minuti, tutto giusto, con la squadra che torna a vincere e a dare spettacolo. Se leggiamo la motivazione sembra non essere in linea col voto leggermente scarso dato all'allenatore. Ma noi vogliamo approfondire con un esperto questa partita, sia dal punto di vista del gioco in campo, sia dal punto di vista delle prospettive che si aprono per la nostra nazionale. Lo faremo tra pochissimo, subito dopo una breve pausa pubblicitaria, con Franco Strippoli, giornalista sportivo, storico volto e storica voce di novantesimo minuto. Quindi restate con noi a tra pochissimo. Come preannunciato nella prima parte siamo collegati in videochiamata con Franco Strippoli, giornalista sportivo, abbiamo detto volto e voce nota di novantesimo minuto per una vita potremmo dire. A lui, sulla base della sua grandissima esperienza nel settore del calcio, chiediamo anzitutto un giudizio su Spalletti. Il Sky Sport gli ha dato 7, anche se il giudizio è positivo. Ma possiamo dire che Spalletti finalmente ha trovato la nazionale che ci può far sperare in un ritorno ai vecchi fasti dell'Italia? Stefano, consentimi prima di parlare di Spalletti, di rivolgere un saluto a tutti i telespettatori di Tele Padre Pio e tutti i devoti di Padre Pio. Cioè io sono molto devoto di Padre Pio. E adesso possiamo anche parlare di Spalletti. Spalletti è un tecnico maniacale. Quando lui ha preparato l'Europeo non ha avuto tutto il tempo disponibile per valutare attentamente la squadra, i giocatori. Tant'è vero che dopo l'Europeo lui ha fatto delle attente valutazioni e ha visto che alcuni giocatori che avevano fatto parte dell'Europeo, che aveva vinto il titolo con Mancini, non andavano più d'accordo con lui o con il suo schema tattico, con il suo gioco. E allora ha modificato un po' le gerarchie, ha preso ragazzi che hanno entusiasmo, che hanno volontà di farsi notare, che hanno voglia di giocare in nazionale. Perché non tutti, ho la sensazione, abbiano la passione e la voglia di giocare in nazionale. Però questi ragazzi che adesso lui sta plasmando a suo uso e consumo a Spalletti, perché ripeto, lui è un allenatore che è molto maniacale e quindi adesso sta adottando il suo schema di gioco, il suo modo di far giocare la squadra, di avere a disposizione dei ragazzi disponibili a quello che è il suo credo tattico. E le cose stanno andando molto meglio, soprattutto perché i giovani che lui ha inserito, i vari Calafiori, adesso ha fatto esorgire Maldini, poi c'è il ragazzino della Roma Pisilli, ci sono tanti ragazzi bravi che lui piano piano sta portando. Adesso non ti so dire dove andrà questa nazionale e cosa riuscirà ad ottenere, però il primo obiettivo è quello di piazzarsi in prima posizione alla National League ed è già un grosso risultato dopo la figuraccia degli europei. Però, ripeto, non può far testo l'europeo perché Spalletti non ha avuto il tempo di valutare attentamente la squadra, i giocatori, tant'è vero che alcuni che erano giocatori inamovibili per Mancini, poi lui ha visto che non erano adatti al suo tipo di gioco, ai suoi schemi di gioco e quindi ha modificato un po' tutto l'andamento della squadra, del nazionale, del suo credo d'attico. Ci sono altri calciatori che potrebbero essere provati prima di definire quale sarà la nazionale che, lo speriamo, giocherà il prossimo mondiale? Ma io credo che lui, Stefano, voglia ancora verificare e valutare questi ragazzi che possibilità hanno di inserirsi in maniera efficace a livello internazionale. L'altro giorno lui è stato a visionare l'Under 21 che ha pareggiato con l'Irlanda e si è qualificata per la fase finale dell'europea l'Under 21 e quindi lui sta seguendo diversi ragazzi che potrebbe anche inserire nella nazionale A. E' importante questo patto perché è un tecnico che, ripeto, non tralascia nulla al caso e valuta tutte le varie situazioni, tant'è perché ha avuto il coraggio di lanciare ragazzi che forse qualche altro tecnico non avrebbe lanciato in nazionale A. E già questo è un patto positivo anche perché, ripeto, lui vuole da questi ragazzi il riscatto, vuole l'entusiasmo, la voglia di vincere, la voglia di aggredire l'avversario ovviamente in maniera pacifica e soprattutto vuole vedere la squadra giocare un calcio che a lui piace, che è quello il suo calcio. Molti quotidiani mettono in evidenza il fatto che ci sia ormai una terza generazione di Maldini in campo adesso c'è Daniel che dopo Cesare e dopo Paolo ha ottenuto anche lui la maglia azzurra. Quanto è importante avere, non dico il cognome famoso, quanto alle spalle un padre e un nonno e addentro in un settore per diventare bravi? Perché certamente non è stato scelto per il cognome, ma è stato scelto perché è stato in grado di diventare bravo. No, guarda Stefano, nel DNA generazionale che lui sia un bravo calciatore perché il padre, io lo ricordo benissimo, era un libero, un centrale difensivo, elegantissimo, raffinato, bravo, io l'ho visto giocare. Paolo è bravissimo come difensore, un dei migliori difensori a livello mondiale e il figlio che l'altra sera è un sottile nazionale, si vede già che ha delle qualità, ha talento insomma il ragazzo, quindi io credo che avrà un ottimo futuro il nazionale con il suo allegro. Alla fine possiamo dire che l'Italia ha giocato una bella partita oppure, come qualcuno ha voluto sottolineare, sono riusciti a conseguire un bel risultato e su questo non ci sono dubbi, 4 a 1, perché di fronte avevano una squadra che non era certamente un'eccellenza del calcio mondiale? Sì, indubbiamente l'Israel non è che sia un'eccellenza del calcio mondiale, però è una squadra ben messa in campo, ha una certa identità e quindi non dobbiamo sottopalutare la prestazione dell'Italia, soprattutto perché tieni presente, caro Stefano, che nella nazionale italiana ci sono dei giocatori tipo Calati Uri, che è veramente un talento eccezionale, come Di Marco, che secondo me non è un rifinitore, ma sta diventando un rifinitore per gli attaccanti e per i centrocampisti, perché si ritrova un sinistro delicato, raffinato, dolcissimo e riesce con quel sinistro a mettere la palla nei compagni in maniera eccezionale. Se lo servissero anche di più, lui potrebbe essere il vero rifinitore della squadra, visto che non abbiamo più i Totti, Paggio e Del Piero e quindi diventa Di Marco il vero rifinitore di questa nazionale, perché nelle ultime due o tre partite ha fatto degli assist meravigliosi, a parte il gol con la Francia, bellissimo. Anche Sky Sport dà Di Marco il massimo voto insieme a Retegui a pari merito sette e mezzo. Tu ritieni che sia stato Di Marco il migliore in campo? Io credo che Di Marco sia uno dei migliori difensori a livello internazionale e ce ne sono pochi come lui a livello internazionale e mi ricorda Di Marco moltissimo il breme che giocava nell'Inter nel tedesco, il terzino sinistro. Anche lui aveva un piede eccezionale, ma Di Marco rispetto a breme che ho visto giocare da vicino, dal tipo, ha il sinistro molto ma molto delicato. Lui quando tocca la palla con il suo piede sinistro la carezza la palla, non la calcia. Un'ultima domanda che è al confine fra lo sport e la geopolitica. Ci sono stati alcuni che hanno evidenziato come forse sarebbe stato opportuno per l'Italia non incontrare sul campo, sul rettangolo verde, la squadra di Israele in questo contesto storico. Faccio riferimento alla voce storica dei Pink Floyd, Roger Waters, che ha polemizzato sul fatto che l'Italia abbia affrontato Israele. Ma lo sport non è proprio chiamato dalle Olimpiadi in poi a cercare di superare le guerre e non a creare ulteriore astio? Lo sport è chiamato soprattutto Stefano a pacificare gli animi e soprattutto tieni presente una cosa che qui c'è un calentario internazionale dell'UEFA e quindi l'Italia non poteva esimersi dall'affrontare Israele. Doveva giocare per forza altrimenti avrebbe perso la partita tra Paolino e avrebbe avuto anche una penalizzazione. Se c'è un calentario internazionale, io sono d'accordo con te, io sono per la pace in assoluto, però come fai tu a dire no, non voglio giocare contro Israele perché c'è questa situazione, c'è politica, no? Non lo puoi dire, devi giocare e basta. Ecco perché. No, ma poi tra l'altro, diciamo, opporsi a parte il danno sportivo avrebbe creato anche un'ulteriore situazione conflittuale, ulteriormente conflittuale a livello geopolitico e quindi avrebbe peggiorato le cose anziché migliorarle. Indubbiamente, sarebbe stata una frizione micidiale questa e quindi la partita si doveva giocare. Ovviamente ci sono state misure di sicurezza perché temevano chissà cosa e quindi il governo italiano, la questura e la perpetua di Udine ha predisposto tutto nel miglior dei modi. Però sinceramente lo sport è lo sport, lo sport è pace, lo sport è gioia, lo sport è allegria. Quindi diciamo che è stato un momento per dimenticare quello che sta accadendo in quei posti. E non ci possono essere parole migliori, più efficaci per concludere questa nostra trasmissione. Grazie a Franco Stripoli per averci aiutato a rileggere la prestazione della nuova nazionale italiana di calcio e per averci aiutato anche a capire come in questo particolare contesto la partita, al di là del risultato, sia stata importante per l'Italia ma anche per la pace del mondo. Grazie anche a voi amici telespettatori per averci seguito. A giovedì prossimo. Grazie a tutti.